Tutto pronto a potenza per la seconda edizione dell'Allos We Meeting, la manifestazione dedicata al nuoto organizzata dal Comitato Regionale della Basilicata della FIN, la Federazione Italiana Nuoto. Dopo il grande successo della prima edizione, che ha visto esibirsi nella piscina Michele Riviello del capoluogo di Regione Lucano, atleti olimpionici del calibro di Gregorio Paltrinieri del Lucano Domenico Cerenza e della Tarantina Benedetta Pilato, per il 2023 saranno circa 300 gli atleti in gara che si confronteranno in tutti i diversi stili per circa mille gare, sia oggi che domani, primo novembre. L'edizione che vede confrontarsi atleti provenienti da tutti i settori giovanili vedrà come ospite d'eccezione il direttore tecnico della Nazionale Italiana di Nuoto Cesare Buttini. L'edizione del 2023 dopo quella dello scorso anno è una conferma, ci sono oltre 300 iscritti a potenza per notterranno 160 persone e questo ci dà la dimensione di un evento che è diventato un punto di riferimento del panorama nazionale, del nuoto italiano, tant'è vero che molti atleti, ragazzi che si sono già qualificati per i campionati europei e per i mondiali nuoteranno nella vasca di potenza e abbiamo anche l'onore e il piacere di avere qui il selezionatore tecnico sia della Nazionale Maggiore sia di quella Under 18.